Ecco come riscoprire una genuinità nella nostra fede, nel nostro cammino di fiducia in Dio. Tu sei il Tempio Suo, tu appartieni a Lui, Lui vuole farti partecipare del Suo Regno. Un Regno che è amore, pace, gioia, fedeltà, benevolenza, unitezza, dominio di sé. Paolo lo dice a nessun comunità. Il Regno di Dio è in mezzo al mondo. Noi siamo il Suo popolo, il Tempio è ciascuno di noi.